E' terminato con 1-0-0 ma è stato un bel derby, un grande spettacolo soprattutto sugli spalti? Sicuramente, è una partita difficile per noi, lo sapevamo, abbiamo affrontato un'ottima squadra sotto tutti i punti di vista e quindi per noi è un risultato positivo, per noi oggi è importante, è importante dare continuità a quello che abbiamo fatto fino adesso quindi per me personalmente va abbastanza bene. Il Cittadino Estina ha vinto 12 delle precedenti 14 gare disputate al Celeste ma con il senno di poi avreste voluto fare qualcosa in più o il pareggio può andare bene nonostante questa vittoria sorpresa del Cosenza? Si può fare sempre di più sicuramente però credo che ci sono di mezzo anche gli altri, ci sono di mezzo gli avversari oggi Cittadino Estina ha disputato un'ottima partita, se ha avuto questo ruolino di risultati positivi in casa qualcosa sicuramente c'è come noi a San Filippo siamo abbastanza bravi a portare a casa punti, anche loro sono abbastanza bravi a portare punti qui a Celeste quindi sicuramente per noi era importante e ce lo prendiamo come ho detto prima questo risultato positivo. Alla sosta arrivate con 4 punti di margine ed è un gruzzolo fondamentale da difendere per festeggiare a fine anno questa promozione? Ma l'avevo detto già in precedenza, anche se i punti potono essere tanti come possono essere pochi quindi non cambia nulla 4-6 punti, l'importante è dare continuità a quello che abbiamo fatto noi abbiamo un obiettivo e lo dobbiamo raggiungere, c'è bisogno di lavorare anche perché in questo momento c'è ora la sosta e quindi poi riprendiamo, c'è da lavorare sicuramente tanto perché l'obiettivo è ancora molto lontano. Avete preferito più esperienze in mezzo al campo, più gioventù in difesa, nonostante tutto Lago Marsini assoluto protagonista, ancora una volta ha mantenuto la sua porta inviolata, un solo gol subito in 7 partite questo forse è il grande segreto di questo Pestina Capolista? Sicuramente, Ettore oggi è stato abbastanza bravo come in altre occasioni ma credo complessivamente anche la squadra credo che abbiamo disputato un buon primo tempo e ci siamo fatti infilare soltanto su una ripartenza su un caccio d'angolo a favore nostro e abbiamo rischiato di prendere il gol nella seconda parte della gara sicuramente Città di Messina ha spinto un po' di più sugli esterni ci ha messo un po' in difficoltà e ha creato qualche occasione importante però alla fine il risultato è stato positivo e per noi va bene così Grazie a tutti